Sono stati rilevati 22 casi di contagio al Covid nella RSA Iacopini di Cecina. Lo rende noto la ASL Toscana Nord-Ovest, spiegando che tra loro sono stati accertati due casi di variante inglese, mentre sono positivi altri 7 ospiti su 35, 5 operatori sanitari su 36 e 8 suore su 13, per i quali è in corso l'accertamento sul tipo di virus. La ASL sottolinea che tra le suore e gli operatori sanitari positivi nessuno era stato vaccinato con due dosi complete. Gli ospiti, escluso uno, erano invece stati vaccinati. La positività è stata riscontrata a seguito di tamponi antigenici rapidi di routine effettuati sugli ospiti il 17 febbraio. Visto che alcuni soggetti positivi erano già stati vaccinati, è stata richiesta la ricerca di varianti. Ieri l'esito. Tra coloro che erano stati vaccinati, fa sapere la ASL, quelli risultati positivi presentano sintomi lievi. Ovviamente continuerà il monitoraggio, dice ancora la ASL, e siamo fiduciosi che tra le persone vaccinate l'infezione evolverà in una forma benigna. La maggior parte di queste persone risultano asintomatiche o paucisintomatiche, solamente chi non era stato vaccinato ha sintomi più rilevanti. La forte diffusività riscontrata in questa situazione rappresenta invece la conferma di una maggiore contagiosità rispetto al ceppo originario di SARS-CoV-2. Sull'origine del focolaio quasi certamente si può ricondurre, dice la ASL, all'ingresso dall'esterno di persone positive alla variante inglese.